Buonasera a tutti e benvenuti all'analisi ciclica evoluta su DAX e su Fuzzimib che fa da riassunto della giornata di oggi. Come avevo detto questa mattina abbiamo avuto una giornata veramente molto interlocutoria, come vedete racchiusa praticamente in un training range tra i 12.888-890 e i 939, quindi capite, una sessantina di tic a parte lo spike. Nonostante questo abbiamo fatto una piccola operazione che è stata parecchio divertente. Perché? Perché quando siamo andati qui potenzialmente in chiusura del quinto t-3, eccolo qua, alla violazione del massimo, creato qua un piccolissimo swing a 12.907, siamo andati long. Cosa è successo? Saliti poco, saliti poco, saliti poco, saliti bene, saliti bene, saliti molto bene, attendevamo di raggiungere questo livello di algoritmo, inversione, tornati temporaneamente in perdita di 18 tic, successivamente risalita, al che dopo un primo avvertimento ho detto va bene. effettivamente abbiamo provato a fare trading in una giornata in cui era meglio evitare le scadenze fanno fare queste robe qua, salita, discesa, salita, discesa, salita, e confinano spesso, molto spesso, statisticamente, in un training range molto modesto come visto, i movimenti dei nostri mercati. ciò nonostante, ci siamo portati a casa una pizza e birra, ok? A meno quello. Per il resto, abbiamo poi chiuso appunto la giornata qui, perché essendo già pomeriggio non avevamo voglia di andarci a ficcare nei guai. Per quale motivo? Perché? Prima di tutto non sappiamo se effettivamente qui si sia chiuso il quinto t-3, perché nella realtà di fatti può essersi chiuso a 29 barre, ma anche comodamente a 42. Quindi il stesso t-3 è iniziato qui oppure qui. Quando c'è questa lateralità, o comunque questa salita molto, molto, molto tenue, con scarsi movimenti e in trend, diventa più difficile andare a capire da dove effettivamente si è partito il nuovo t-3. Per determinate cose lo farei partire ancora qui, per determinate altre ancora qui, tutte le condizioni necessarie e sufficienti per la chiusura sono sia qua che qua. Per cui, in questo momento, bisognerebbe tirare i dadi. Per quanto riguarda l'inverso, per ora, anche in questo caso, nonostante avessi preferito sicuramente avere un raccordo di qua, possiamo dire che è possibile che il secondo t-3 sia questo, quello delle 15 e 15. Ed è anche possibile che, nella realtà dei fatti, se vogliamo ragionare sull'ipotesi B come continuo a dirvi da un pochino di giorni, quando continuate a vedere che qui, più che scendere, siamo di nuovo saliti, bisognebbe fare attenzione perché qui non è ancora detto che questo non sia il nono, il decimo, questo sia l'undicesimo t-3 inverso, che se ci porterà appunto sopra a questo massimo, a 12.999 lunedì, e chi lo sa, ok, chi lo sa nel senso che bisognerà vedere l'apertura, non siamo maghi, io sono un analista ciclico del mercato, sono un analista quantitativo, anche ieri, quando sono state notizie decisamente interessanti, la borsa è andata dove dicevamo noi, non dove ci si aspettava che dovesse andare, ok? Per cui, nulla ancora ci dice che questo non possa essere teoricamente nono, decimo, undicesimo t-3, ce lo dirà ovviamente la violazione o meno di questo massimo, oppure di questo swing inverso, anzi in realtà preferirò sicuramente lo swing inverso a 12.886, questo per quanto riguarda il DAX. Per cui, pizza e birra portati a casa, vediamo anche il Fuzzimib, il Fuzzimib in questo momento mi sta facendo venire la tentazione di essere riutilizzato come principale mercato, per il semplice fatto che è estremamente più lineare. Qui è ben chiaro che il quinto t-3 si sia chiuso qua, e che il sesto sia partito da qua, e che questo sia effettivamente già il decimo, e probabilmente abbiamo una forte possibilità che andremo a fare l'undicesimo t-3 inverso, e poi, da lunedì, nel tardo della mattinata, o entro comunque le 44 barre, e ne mancano soltanto più 10, andremo a scendere. Per cui, per questi dati motivi, tornerai eventualmente a riprivilegiare il mercato italiano rispetto al tedesco. Sul tedesco abbiamo una quantità di raccordi che è pazzesca rispetto a questo, al nostro italiano, che come vedete, oltretutto si è appoggiato per tutto il tempo, la media mobile a 50 periodi, ha continuato a rimanere e a salire quando c'è stato il Golden Cross. Qui, Golden Cross, saliti, 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 ok? Molto più semplice, meno che down, meno che pop, ok? Per cui adesso ci ragiono, e lunedì vediamo un attimo che cosa fare. Vi faccio vedere l'ultimo grafico, questo è estremamente interessante, guardate anche qui, 20.399, oggi abbiamo fatto i 20.427, questa è una candela fantastica, quest'ultima, e qui abbiamo la nostra divergenza, quella che continua ad essere bassista e continuiamo comunque a spingere in su perché abbiamo una tendenza volumetrica a rialzo, cosa che dopo questa candela qua non avrebbe dovuto esserci, o almeno avevamo ancora questa candela per farla e poi se avessimo voluto andare a chiudere il T3, oltre le 43 candele con, scusate, oltre le 84 candele con un eventuale raccordo, l'avremmo potuto fare. Nella realtà, difatti, mi sa che abbiamo avuto appunto un 1, 2, 3 tempi, qui solo per la ciclica evoluta ci può essere stata una chiusura di T più 3 trimestrale, iniziata da questo minimo e finita su questo minimo, a 61 barre, solo per la ciclica evoluta, perché questo minimo qua, a 18.302, non è inferiore a questo, a, appunto, giusto, a 18.236, 18.236 superiore a 302, quindi per la ciclica evoluta io ce l'ho la chiusura, perché ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, in realtà 7, 8, 9 candele persino che compongono un T-3, un T settimanale e bassista, mentre invece, per la ciclica base, la sto ancora aspettando, per cui, o lunedì crolliamo alla velocità della luce sotto i 19.394, cosa per carità possibile, ma strana, ok, oppure, è molto probabile che da qui sia partito il secondo T più 3 di indice, e che, a breve, se non ci vincoleremo, comunque, ribasso sul primo T-2 inverso, lo faremo molto probabilmente sul secondo, proseguendo la salita, e il treno a salire. Vi ringrazio per il vostro tempo, che comunque state investendo in voi, perché nella realtà dei fatti, la formazione è fondamentale, e vi auguro un buon weekend. State mi bene?